La scuola di scuole private è potenzialmente delle stesse, qualcosa di molto simile a quanto il sistema sanitario con i finanziamenti e le scuole privati convenzionati. L'intento di smontellare il sistema di ufficio al pubblico è evidente, noi non ci fulgiamo e stiamo capendo di danno per dire a questi signori che se ne devono andare sulle mani del nostro futuro. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Ed è ancora lei ad essere tornata alla carica con il nuovo disegno di legge per aziendalizzare la scuola e aprirne le forze privati. Verrebbero cancellare la scuola fisica e si coordinasse l'accesso ai saperi e agli diversi del mercato e le università li posino in buona maniera diversa. E' un'altra parte dell'osterity che distrugge il sistema di welfare, impone il sacrificio anche a meno e cancella ai diritti. Ma soprattutto è l'affermazione del mercato come priorità assenuta. Non accettiamo di essere ridotte e ridotte a macchine da programmare in base alle funzioni che il mercato del lavoro richiede. Vogliamo dignità e reddite. Le briscioli non si bastano più. Siamo qui per riprendersi il nostro futuro. VATECI PASSARE! VATECI PASSARE! VATECI PASSARE! VATECI PASSARE! VATECI PASSARE! Cos'è una cosa, possiamo passare, possiamo passare la città di un gioco. Cos'è un gioco! Cos'è un gioco! Cos'è un gioco! Cos'è un gioco! Stiamo lottando perché siamo studenti e stiamo riportando dal basso in questa lotta perché la scuola è nostra, sono noi organi principali.